Bene Vito, dopo alcuni anni durante il quale è stato impossibile poter riottenere qualche stabilimento che decafinizzasse con il nostro stabilimento d'acqua, siamo normalmente riusciti finalmente a trovarlo, per cui stiamo per andare ad assaggiare la nostra miscela 100% radica fatta a decafinizzare appunto soltanto con l'acqua, quindi senza alcun tipo di acido chimico. Puoi vedere che pur essendo un decafinizzato, pur essendo una 100% radica, anche qui se l'estrazione viene fatta con tutte le cure di caso, un certo tipo di crema riusciamo ad ottenere. A livello effettivo direi che l'odore è intrigante e il stesso positivo. Ovviamente la crema non può essere, per forza di cose, essendo un decafinizzato estremamente importante però è comunque presente, anche nell'attazione dove abbiamo messo lo zucchero, e la corposità chiaramente non è masticabile, però assolutamente percettibile. Una certa qua di pastosità, ribadisco, pur essendo una 100% radica decafinizzata, è chiaramente intuibile. Però non si direbbe che è un decafinizzato. Questo dipende molto probabilmente, spezzando l'allianza per noi, dalle tipologie di caffè che si è effettivizzato e che fa la ricetta. Assolutamente. Come tutti i caffè decafinizzati, l'acidità in questi casi non è estremamente pronunciata, però anche qui è percettibile. Anche qua rimaniamo direi sul cacao, sul cioccolato, potrei dirti sul canalello. Vaniglia. 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 L'ambito del tuo gusto è leggermente vaniglia. La vaniglia. Perfetto. Direi che finalmente, dopo tanti anni, i nostri clienti che usavano, metterlo in un silos a parte e venderlo con il certificato di decafinizzazione all'acqua, che vediamo se per fornire, ovviamente, possono riaverlo. Direi che, insomma, si è soddisfatto con il caffè, assolutamente. Indica anche che, pur se è decafinizzato, se utilizzando, se utilizziamo delle buone patite di caffè all'origine, riusciamo ad ottenere un discreto, anzi, un buon prodotto finale, anche della tazia di caffè, ribadisco anche se il caffè è decafinizzato. E allora, buoni sonni a tutti. Buon appetito. Ciao. 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 Ciao.